buongiorno nell'amore del signore io sono nicodemo fabiano oggi è il primo di febbraio del 2021 noi abbiamo fatto un mese intero di lettura della parola perché questo è leggiamo la bibbia insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì a mesogiorno leggeremo da uno a due o forse massimo tre capitoli della parola di dio che sicuramente saranno di edificazioni una parola per benedire per fortificare il tuo cuore inoltre se tu hai una richiesta di preghiera io voglio pregare per te a dio nel nome di gesù attraverso la potenza dello spirito santo tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 7 del mattino nell'appuntamento su alba nuova mi puoi seguire nel canale di nicodemo fabiano su youtube a proposito iscriviti sul canale clicca nel campanellino e fai parte subito di questo di questa rete di persone che pregano tutti i giorni al signore io ho anche il mio profilo facebook dove mi puoi trovare e anche la pagina di alba nuova potenza nella preghiera ma in questo tempo noi vogliamo dedicarci alla parola del signore e quindi come ho detto oggi il primo di febbraio del 2021 noi leggeremo genesi capitolo 41 ecco cosa dice la parola del nostro signore alla fine di due anni interi il faraone fece un sogno egli stava presso il fiume e dal fiume ecco salire sette vacche di bel aspetto e grasse che si misero a pascolare nella giuncaia dopo quelle ecco salire dal fiume altre sette vacche di brutto aspetto e scarne che si fermarono accanto alle prime sulla riva del fiume le vacche di brutto aspetto e le scarne divorarono le sette vacche di bel aspetto e grasse e il faraone si svegliò poi si riaddormentò e sogno di nuovo ecco sette spighe grosse e belle venir su da un unico stello poi ecco germogliare sette spighe sottili e arse dal vento orientale che germogliavano dopo quelle altre le spighe sottili inghiottirono le sette spighe grosse e piene il faraone si svegliò era un sogno la mattina lo spirito del faraone fu turbato e gli mandò a chiamare tutti i maghi tutti i savi d'egito e raccontò loro i suoi sogni ma non ci fu nessuno che li potesse interpretare al faraone allora il capo dei copieri parlò al faraone dicendo ricordo oggi le mie colpe il faraone si era sdegnato contro i suoi servitori e mi aveva fatto mettere in prigione nella casa del capo delle guardie me e il capo dei panettieri l'un e l'altro facciamo un sogno nella stessa notte facciamo ciascuno un sogno con un significato particolare lì con noi c'era un giovane ebreo servo del capo delle guardie a lui raccontamo i nostri sogni ed ele ci interpretò dando a ciascuno l'interpretazione del suo sogno e le cose avvenero secondo le interpretazioni che ci aveva data il faraone ristabilì me nel mio incarico e l'altro lo fece impiccare allora il faraone mandò a chiamare giuseppe lo fecero subito uscire dalla prigione sotterranea egli si rase si cambiò il vestito e andò dal faraone il faraone disse a giuseppe ho fatto un sogno e non c'è chi lo possa interpretare ho udito dire di te che quando ti raccontano un sogno tu lo puoi interpretare giuseppe rispose al faraone dicendo non sono io ma sarà dio che darà al faraone una risposta favorevole allora il faraone disse a giuseppe nel mio sogno io stavo sulla riva del fiume quando ecco salire dal fiume sette vacche grasse di bel aspetto e che si misero a pascolare nella giuncaia dopo quelle ecco salire altre sette vacche magre di bruttissimo aspetto e scarne tali che non vide mai di così brutte in tutto il paese d'egito le vacche magre e brutte divorarono le prime vacche grasse e questo entrarono loro in corpo e non si riconobbe che vi erano entrate erano di brutto aspetto come prima e mi svegliai poi vide ancora nel mio sogno sette spighe venire su da un unico stello piene e belle ed ecco germogliare altre sette spighe vuote sottile e arse dal vento orientale dopo quelle altre le spighe sottili inghiottirono le sette spighe belle io ho raccontato questo ai maghi ma non c'è stato nessuno che abbia saputo spiegarmelo allora giuseppe disse al faraone ciò che il faraone ha sognato è una stessa cosa dio ha indicato al faraone quello che sta per fare le sette vacche belle sono sette anni e le sette spighe belle sono sette anni è un solo uno stesso sogno le sette vacche magre e brutte che salivano dopo quelle altre sono sette anni come pure le sette spighe vuote e arse dal vento orientale saranno sette anni di carestia questo è quello che ho detto al faraone dio ha mostrato al faraone quello che sta per fare ecco stanno per venire sette anni di grande abbondanza in tutto il paese d'egito dopo verranno sette anni di carestia tutto quell'abbondanza sarà dimenticata nel paese d'egito e la carestia consumerà il paese uno con non conoscerà più quelli dell'abbondanza nel paese a causa della carestia che seguirà perché questa sarà molto dura il fatto che il sogno si sia ripetuto due volte al faraone vuol dire che la cosa è decretata da dio e che dio l'eseguirà presto or dunque il faraone si provveda di un uomo intelligente e saggio e lo stabilisca sul paese d'egito il faraone faccia così costituisca dei commissari sul paese per prelevare il quinto delle raccolte del paese d'egito durante sette anni d'abbondanza essi raccolgono tutti i viveri di quelle sette annate buone che stanno per venire e ammassino il grano a disposizione del faraone per l'apprivigionamento delle città e lo conservino questi viveri saranno una riserva per il paese in vista dei sette anni di carestia che verranno nella terra d'egito così il paese non perirà per la carestia la cosa piacca al faraone e a tutti i suoi servitori il faraone disse ai suoi servitori potremmo forse trovare un uomo pare a questo in cui lo spirito in cui ci sia lo spirito di dio così il faraone disse a giuseppe poiché dio ti ha dato conoscere tutto questo non c'è nessuno che sia intelligente e savio quanto te tu avrai autorità su tutta la mia casa e su tutto il popolo il bubbi dirà ai tuoi ordini per il trono soltanto io sarò più grande di te il faraone disse ancora giuseppe vedi io ti do potere su tutto il paese d'egito poi il faraone si tolse l'anello dal dito e lo mise al dito di giuseppe lo fece vestire di abiti di lino fino e li mise al collo una collana d'oro lo fece salire sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava in ginocchio così il faraone l'idea di autorità su tutto il paese d'egito il faraone disse a giuseppe io sono il faraone ma senza il tuo ordine nessuno alzerà la mano o il piede in tutto il paese d'egito il faraone chiamò giuseppe safanat paneak e li diede per mole asenat figlio di potifera sacerdote di on giuseppe partì per visitare il paese d'egito giuseppe aveva 30 anni quando si presentò davanti al faraone re d'egito giuseppe uscì dalla presenza del faraone e percorse tutto il paese d'egito durante i sette anni di abbondanza la terra produsse a profusione a profusione giuseppe raccolse tutti i vivere che furono prodotti nel paese d'egito in quei sette anni e li immagazzinò nelle città immagazzinò in ogni città i vivere del territorio circostante così giuseppe ammassò grano come la sabbia del mare in così gran quantità che si smise di contarlo perché era incalcolabile prima che venisse il primo anno della carestia nacquero a giuseppe due figli che asenat figlio di potifera sacerdoti di on li partori giuseppe chiamò il primo genito manasse perché disse dio mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno e tutta la casa di mio padre e il secondo lo chiamò e fraim perché disse dio mi ha reso fecondo nel paese della mia afflizione i sette anni d'abbondanza che c'erano stati nel paese d'egito finirono e cominciarono a venire i sette anni di carestia come giuseppe aveva detto ci fu carestia in tutti i paesi ma in tutto il paese d'egito c'era del pane poi la carestia si estese a tutto il paese d'egito e il popolo gridò al faraone per avere del pane il faraone disse a tutti gli egiziani andate da giuseppe e fate quello che vi dirà la carestia era su tutta la superficie del paese e giuseppe aprì tutti i depositi e vendette grano agli egiziani la carestia si aggravò nel paese d'egito da tutti i paesi venivano in egito da giuseppe per comprare grano perché la carestia era grave su tutta la terra parola del signore questo è leggiamo la bibbia insieme noi continueremo a leggere la parola del signore anche domani sempre a mezzogiorno nel canale di youtube di nicodemo fabiano io ti aspetto metti un like iscriviti sul canale metti un commento prega per me io prego per te e lascia la parola del signore parlare al tuo cuore nel nome di gesù che lui ti benedica e tu abbia una settimana veramente felice nel signore e tu abbia una settimana